Jack Dempsey è al numero 3 nella classifica di Burt. Come mai così in alto? È stato la più grande attrazione nella storia della box. Attirava folle anche di 120.000 persone. Ha guadagnato milioni di dollari. Ma c'era molto di più di questo. Ha messo KO 60 avversari, contando anche le esibizioni nei primi anni di carriera. 60! Un vero spettacolo, un lottatore. È stato il pugile più spettacolare ed esaltante di tutti i tempi. Combatteva come un angelo della morte. Sconfiggeva gli avversari con un gancio sinistro terrificante. E a insegnargli quel gancio fu Jack Doc Kearns, conosciuto molti anni prima, quando era un vagabondo. Ebbe un'infanzia e una giovinezza molto dure. Doveva combattere per guadagnarsi da mangiare, è vero? Combatteva nei saloon, sui pavimenti coperti di segatura, per guadagnarsi un pasto, quando andava bene. L'unica volta in vita sua in cui andò KO contro Jim Fireman Flynn era a digiuno da quattro giorni. Poi conosce Jack Doc Kearns, che diventa il suo allenatore e che, per insegnarle a usare il gancio sinistro, gli lega il braccio destro dietro la schiena. Jack Dempsey tira fuori un gancio sinistro più terrificante di quello di Joe Frazer. E così arriva a New York. Sceglie gli avversari, come dire, giusti. E continua la sua ascesa, fino a diventare lo sfidante di Jess Willard. Quante volte Willard ha difeso il titolo dopo averlo strappato a Jack Johnson? Vinci il titolo nel 1915, lo difende una volta e se ne torna a casa in Kansas. A riposare sugli allori. Dempsey si guadagna l'opportunità di combattere per il titolo mandando KO Fred Fulton, l'aspirante numero uno, in 18 secondi e Carl Morris, il candidato numero due, in 14. Un portento. Assolutamente. E così guadagna l'opportunità di sfidare Jess Willard il 4 luglio 1919. Jess è una montagna umana. È alto un metro e 98. Tex Ricard ha organizzato l'incontro a Toledo, in Ohio. Prima del match, Ricard dice a Dempsey «Stai attento, quello ha ucciso un uomo. Aveva ucciso Bull Young». Gli dice che è un duro, è un violento e che ha battuto Jack Johnson. Dempsey comincia l'incontro e fa un caldo soffocante. Il 4 luglio 1919, sembra il giorno più caldo di tutta la storia del Midwest. Dempsey si fa avanti, un colpetto leggero, e poi scarica il suo gancio sinistro. Willard va giù con la mandibola rotta in diversi punti. Con un pugno? Uno solo. Willard va al tappeto sette volte nel primo round. All'improvviso suona il gong, ma in mezzo alla confusione e alle urla della folla in delirio, nessuno lo sente. E Dempsey abbandona il ring, mentre il suo manager, Doc Kearns, salta di gioia. Ha scommesso 10 a 1 sul KO alla prima ripresa. Ma a quell'epoca, diversamente da oggi, il conteggio non continua oltre il gong. Il gong mette fine al conteggio. Willard riesce a combattere per altre due riprese, e poi è finita. Al termine del terzo round, se ne sta lì, seduto, e ripete, ho una fattoria in Kansas, ho una fattoria in Kansas, ed è quel che gli resta. Da quel momento, Dempsey diventa un mito dello sport, ecclissando anche Babe Ruth. Paul Gallico, che ha definito quegli anni l'età dell'oro dello sport, ha indicato Dempsey come il più grande, e ha messo Babe Ruth al secondo posto, davanti a Red Grange, Tilden e Bobby Jones. In tempi più recenti, 15 anni fa, Jim Murray ha scritto su Los Angeles Times quando Dempsey si ritirò, dovettero ritirare il titolo di campione. Insomma, era davvero un mito. Hai indicato il match tra Dempsey e Firpo come uno degli incontri più belli di tutti i tempi. È il tuo preferito. Il migliore. Allora, dicci un po' com'è andata. Firpo era un gigante. A vederlo sembrava addirittura più grosso di Willard. Lo chiamavano il toro selvaggio della pampa. E anche Dempsey, quando lo affrontò, aveva un bel soprannome, il picchiatore di Manassa, perché era nato a Manassa, in Colorado. Era stato David Rennian a dargli quel soprannome. E così il picchiatore di Manassa e il toro selvaggio della pampa si affrontano allo stadio Polo Grounds di New York, davanti a 100.000 spettatori stipati come sardine. Suona il gong e al primo pugno di Firpo Dempsey va al tappeto. Dempsey si rialza e al suo primo colpo Firpo va giù. Il match va avanti così. Dempsey stende Firpo per altre sei volte. Ma il knockdown più famoso della storia della box, perché è immortalato nel quadro di George Bellow, arriva quando Firpo, dopo essere andato al tappeto, si rialza, si scaglia contro Dempsey e lo colpisce. Dempsey vola di schiena oltre le corde, giù dal ring. Dempsey atterra e dice, qualcuno mi aiuti. E Jack Lawrence, del New York Times, tutto concentrato nel battere a macchina la cronaca di quel match, dà uno spintone a quel tizio che era finito sulla sua macchina da scrivere. In pratica spinge Dempsey di nuovo sul ring. Dempsey torna sul ring e butta di nuovo giù Firpo. Inizia la seconda ripresa. Dempsey atterra Firpo altre due volte. In quattro minuti ci sono undici knockdown, un match incredibile, spettacolare, il più grande della storia. Ma Jack Dempsey era così. Sul ring era sempre uno spettacolo. Il titolo mondiale dei pesi massimi tra Dempsey e Gibbons, Dempsey pantalon cinichiari. Per averlo Selby, la città del Montana, si è letteralmente dissanguata, rischiando praticamente la banca rotta. Spero che ci sia davanti pubblico pagante. Sicuramente ha risposto bene l'investimento della cittadina, anche perché è una garanzia, Dempsey, ormai popolare in tutto il paese. Dempsey cerca iniziativa, l'avversario si limita al clinch. Dempsey che ha costretto avversari in minimi termini, rompendo costole, facendo saltare i denti, considerato veramente un assassino del ring. E' comunque Dempsey a tenere l'iniziativa. Gibbons riesce anche a creare qualche difficoltà. Jeb di Dempsey. Gancio da parte di Dempsey e scappa letteralmente l'avversario. Comunque con questa strategia Gibbons sta riuscendo quantomeno nell'obiettivo di trascinare a lungo nelle riprese l'avversario. In pochi sono riusciti a trascinare i punti in carriera Jack Dempsey. ha solo un paio di occasioni di Dempsey prima che arrivi il clinch sistematico da parte di Tommy Gibbons. Match molto spigoloso. È difficile trovare colpi tirati bene. un paio di torino. Gibbons che addirittura finisce fuori dalle corde. qui si scatena la furia di Dempsey. In qualche modo è riuscito in un'impresa comunque Gibbons cioè a limitare la potenza di quello che era considerato un vero e proprio animale da ring. ha costretto oltretutto Dempsey a sbagliare molti colpi a essere impreciso. Difatti non si vedono prima di tutto si vede moltissimo clinch si vede che due non si trovano molto come carattere sul ring intendo, stilisticamente e poche tecniche chiare e precise. Ma non aveva probabilmente altro modo Gibbons per affrontare Dempsey. sono sempre a contatto i due non c'è di fatto distanza non concede niente all'avversario Gibbons che ovviamente così facendono un po' che ha che perdere il match. Troppo forte per lui Dempsey We're on a train leaving town after grabbing the last $56,000 left in the till. new We're on